eccoci qua destinazione bologna inizio nel cammino degli dei belli carichi temperatura di 33 gradi oggi è il 21 giuglio 2021 stai finito tutto bene arrivate bologna e poi si parte la basilica di san luca la basilica vista dalla discesa che porta verso il sentiero degli dei quello che ci accompagna è un assordante e piacevole finire delle picanze grazie a tutti siamo notevolmente in ritardo sulla tabella di marcia in quanto abbiamo sbagliato traccia ma anche questo fa parte del viaggio quindi con molta calma e filosofia come si diceva abbiamo sbagliato percorso e questa mattina è un'altra parte del viaggio che abbiamo sbagliato che abbiamo sbagliato che abbiamo sbagliato per cercare di riposare perché domani ci aspetta la seconda tappa sappiamo benissimo che il viaggio testimonia la forza di chi riesce a compiarlo quindi anche i miei previsti fanno parte del viaggio e la meraviglia del panorama che si apre gratifica tutte le fatiche giusto stefi no diciamo che abbiamo affrontata molta calma questo sì però alla fine qui 9-10 km in più che abbiamo fatto ci hanno scannato però la meraviglia è questa mio cucciolo giù è stata brava bravissima forse l'ora più bella quella delle ombre lunghe fattoria a monte adone questo è il risultato io me ne meglio ho spattolato il piatto le cucine eccezionali a 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